Benvenuto, cadetto! Ora indossa la tua prototuta. La tua prototuta è l'armatura più avanzata sul mercato ed è disponibile in tutti i colori più alla moda dell'autunno. Forte! Il sensore dell'elmetto legge i tuoi pensieri ed equipaggia telepaticamente l'arma che desideri. Prova a equipaggiare il tuo combaster. Ecco fatto! Combaster equipaggiato. Strepitoso. Il combaster è la spina dorsale del nostro arsenale per bersagli da piccola a media portata. È imbarazzante. Il multiplasma spara un flusso di plasma mortale che colpisce bersagli multipli in una volta sola. Visto? Ha capito! Più o meno. Questo è il mini-atom. Spara missili multipli a lunga gittata e ad alto impatto. l'eccellenza contro l'armatura pesante. Lancere! Ehi, ehi, ehi! No, 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 no! Il mini-lanciarazzi! Non lo so, il chopper? Oh, la gravibomba? Attenti! Wow. Amico. Com'è andata? Com'è andata? No.